Sono stati rinviati a data da destinarsi gli interventi di riparazione agli acquedotti Ancipe e Blufi da parte di Siciliacque. Lo ha comunicato la società Caltaacqua, i cui responsabili hanno inoltre precisato che non si è verificata alcuna interruzione della fornitura di acqua nella città di Gela. La società che gestisce il servizio idrico in provincia di Caltanissetta ha inoltre precisato che l'esecuzione dei lavori non avrebbe creato in ogni caso alcuna interruzione della fornitura alla città di Gela, ma solamente alla zona denominata Piana Marina. Inoltre non è nemmeno prevista alcuna interruzione delle forniture sino al 16 giugno prossimo, considerato che allo stato attuale e nei prossimi giorni la distribuzione idrica sarà programmata nella maniera usuale, con circa il 50% dell'utenza servita H24. Infatti fino ad oggi Siciliacque non ha comunicato interruzioni o riduzioni di fornitura idrica. Caltaacqua inoltre ha precisato che continuerà a lavorare per migliorare il servizio idrico in tutta la provincia e con particolare attenzione alla città di Gela. Sono infatti previsti investimenti di fondi sia privati che pubblici grazie anche a un recente finanziamento pubblico di circa 14 milioni di euro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.